A mio avviso bene farebbe Tony Dare a scusarsi per l'offesa, che non vuol mica dire indietreggiare sulle analisi, ma sull'offesa in quanto tale farebbe bene scusarsi. Dare secondo lei è fuori dalla Lega a questo punto? Non lo so, non sono io a decidere, credo che se non c'è un'elettromarcia da parte sua è difficile che il partito non prenda un provvedimento. In politica la forma è sostanza e quel cretino a Matteo Salvini era di troppo. A dirlo non è certo un ortodosso del verbo salviniano, Roberto Bulldog marcato e reduce da numerose battaglie interne al partito e spesso, accanto allo stesso Dare, è stato annoverato tra i ribelli. La dialettica politica non può mai trascendere in offesa, altrimenti va bene tutto. Questo non toglie che non ci siano delle criticità all'interno del partito che ormai sono evidenti a tutti. Ma io stesso che lo vado dicendo da quello che adesso dicono tutti, io lo dico da due anni, però ho sempre mantenuto comunque il rispetto anche di chi è oggetto delle mie critiche. Che il caso Dare agiti la Lega lo si vede dalla fatica con cui gli esponenti trevigiani del partito rispondano al telefono, chi non visualizza, chi nicchia, anche perché il caso dell'ex segretario nazionale non è l'unica grana. In ballo c'è anche la formazione delle liste in vista delle comunali con veti incrociati tra forze del centrodestra. Per marcato l'ultima parola spetta i territori e non manca un messaggio ai meloniani. Mi fa piacere che oggi nessuno, nemmeno dei dirigenti leghisti che fino all'altro ieri lo dicevano, nessuno oggi osa dire che le trattative per i Veneti si fanno a Roma. Le dimensioni locali devono essere trattate localmente. Io andrei cauto se fossi i fratelli d'Italia nel mostrare muscoli che per il momento localmente devono ancora dimostrare di avere.